Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vi propongo un gioco. A chi indovinerà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo di Calcio avrà la possibilità di ricevere, di vincere, una maglia da calcio gratis. Sì, avete capito bene, gratis. Potete inserire il vostro pronostico iscrivendovi al canale e lasciando un commento a questo video. Al termine dei mondiali di calcio estrarremo tra coloro che avranno indovinato il nome del fortunato vincitore che riceverà gratis una maglia da calcio a sua scelta. In descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia ma soprattutto trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare quello che vogliete. Quindi cosa aspettate? In descrizione trovate il regolamento per partecipare al concorso. Non vi resta che mettervi alla prova, quindi mettete un like, iscrivetevi al canale e buona fortuna! Ma siete ancora qua? Cosa aspettate? Il concorso non aspetta! Ciao!